Bentornati su Flipper Mania, questa volta ci dedichiamo a un flipper un po' più vecchio di quelli che abbiamo visto fino adesso perché avevamo visto dei flipper diciamo degli anni 90 con il display a metrice di punti dove c'erano gli intermini giochi eccetera dei flipper un pochetto più vecchiotti fino all'anno 80, anni 80 che avevano dei display simili a cristalli liquidi ma in realtà sono TFT che facevano vedere solo numeri e lettere con i quali però i game designer un po' si arrabbattavano si ingegnavano per far vedere dei disegni come sempre nel flipper che abbiamo visto di ritorno al futuro questa volta invece andiamo un po' più indietro nel 1975 dove c'è uno dei più bei flipper elettromeccanici mai fatti ovvero abracadabra della Gottlieb anno 1975 questo è un flipper storico anche in Italia questo flipper è conosciuto anche perché c'erano due varianti calcistiche molto uscite nel 77 poi che avevano lo stesso tavolo solo che modificato nei disegni e in tutto quanto tematizzato in maniera differente ed era tema calcistico si chiamava il flipper kicker si chiamava flick kicker oppure team 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 una cosa del genere comunque in Italia era abbastanza diffuso la variante appunto calcistica di questo flipper qui invece questo è l'originale del 1975 che abracadabra è uno dei primi flipper elettromeccanici adesso inseriamo il gettone e vediamo come funzionavano i flipper quelli totalmente elettromeccanici ecco sentiamo già il casino i vari ingranaggi che si sono mossi quando abbiamo inserito il gettone adesso premiamo lo start e vediamo che premendo lo start ecco il punteggio si resetta perché all'interno c'è tutta una serie di relè di fili elettrici eccetera che vanno a resettare questo rullo che rappresenta il punteggio in alto a destra adesso noi andiamo a lanciare la pallina e vediamo che ovviamente manca la musica per questo è un flipper ecco niente vabbè per modificare il volume mi sono fatto scappare la pallina vabbè riproviamo allora manca la musica perché ovviamente questo è un flipper che non aveva nessuna parte elettronica moderna non aveva quindi sintetizzatori né cose né niente vabbè adesso vabbè sta partita diciamo che era di prova dai per farvi vedere do qualche botta ma l'ho mandato in tilt ecco l'ho mandato in tilt quando si mandava il flipper in tilt dentro c'era ovviamente un motorino che vedeva lo scuotimento appariva la scritta tilt si illuminava diciamo sul display in alto ma adesso qui in questa versione emulata non vedete bene il display sopra cioè il back glass ovvero il vetro che copriva dietro parte dei meccanismi e c'era anche il punteggione ovviamente che qui vediamo a destra e allora inseriamo un altro gettone prima abbiamo lo start ed ecco che si resetta ancora il rullo del punteggio e noi stavolta facciamo una partita fatta come si deve vediamo che all'interno del flipper c'erano delle campane tubolari che servivano appunto a fare questa serie di rumori che è tipica dei flipper elettromeccanici degli anni 60 e 70 che chi c'era ai tempi come ad esempio mio padre è un appassionato a mio padre piacciono molto i flipper i flipper di quell'epoca lì perché lui era ragazzo all'epoca e quindi nei bar c'erano questi flipper qui nooo andare giù a piombo che ricordiamo l'incubo di ogni giocatore di flipper quando pallava giù a piombo e anche dando le botte a volte non c'è nulla da fare quindi con buona pace di Carlo Verdone che c'era il suo bel gioco di bacino adesso come vediamo in pratica il flipper funziona meccanicamente e quando noi colpiamo i bersagli una serie di relè fa muovere sia il rullo del punteggio sia il rullo del punteggio che le campane che fa suonare le campanelle che sentiamo qui allora i flipper ovviamente non erano evoluti come quelli di oggi non avevano tutte le modalità, le rampe, tutte le cose però erano comunque molto piacevoli da giocare molto divertenti e soprattutto richiedevano una grande abilità forse ancora più abilità di quelli attuali perché bisognava effettivamente muovere il tavolo proprio come dice Verdone cercando di non far andare il tilt il tavolo appunto siamo a 17.000 punti che non è proprio malissimo però dai vabbè però non siamo molto bravi in questi flipper elettromeccanici abbiamo finito la seconda partita andiamo con la terza e ultima partita abbiamo fatto 19.000 punti abbiamo sfiorato il 20.000 adesso con la terza proverò a giocare un po' più seriamente vediamo se mi riesce una partita decente finalmente questo abracadabra della Gottlieb che ricordo è uno dei migliori flipper elettromeccanici proprio come design per come è fatto per come è studiato è veramente molto 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 ben fatto ed è un flipper storico porca vacca solo 4.000 punti per la prima pallina andiamo con la seconda questa prova a piomba la seconda pallina è andata giù mannaggia che sfiga dai 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 scendi scendi no no allora niente urge una quarta e ultima partita perché qui abbiamo fatto veramente veramente schifo siamo stati anche molto sfortunati aspettiamo che si resetta il display ovviamente giù a piombo proprio ho provato a dare una botta ma non c'è stato nulla da fare ragazzi come l'ho detto a volte quando la sfiga colpisce c'è veramente poco da fare allora vediamo su ci sono due file di drop targets che sono i quei bersagli che colpiti vanno giù eccoli vediamo una botta perché la pallina sarà bloccata no andava proprio giù a piombo allora ultima pallina questa mi pare sia l'ultima vai cerchiamo di colpire andiamo a bottarella no porca vacca che sfiga niente 9.800 allora il nostro punteggio migliore è stato 19.000 e qualcosa allora cosa si faceva visto che all'epoca non c'era ovviamente non c'era il non c'era la memoria interna che registrava il punteggio cosa si faceva si prendeva quando c'erano dei testimoni che vedevano appunto il punteggio ci si faceva dare il pennarellone dal barista come si vede proprio nel film di verdone che ricordiamo e si scriveva con il pennarello proprio sul display sul vetro sul black glass del flipper si scriveva il proprio punteggio con accanto a noi quindi adesso noi idealmente scriviamo 19.000 che ne so era mettiamo 300 non mi ricordo preciso 19.300 e sotto ci scriviamo zombie gamer quindi chiunque va a giocare al flipper sai che il high score l'ho fatto io è 19.300 e l'ha fatto zombie gamer poi se uno supererà il punteggio ovviamente sotto sotto l'occhio vigile dei testimoni cancellerà il mio punteggio col pennarellone e scriverà sotto il suo va bene per questa volta questo tuffo nel passato questo flipper bellissimo abbracadabra il 1975 della Gottlieb ci vediamo al prossimo episodio di flipper mania ciao ragazzi ciao